Sono finalmente qua in Pianta Stabile a Milano, non faccio più vacanze, mai più, mai più e mi sto veramente mettendo in testa di fare live una o due volte a settimana lo so, è incredibile e forse non ci crederete e io crederei al fatto che voi non ci credete ma questo è un po' quello che ho in mente anche perché mi servono un sacco di soldi ragazzi mi servono un sacco di soldi, ho grandi progetti e per i grandi progetti servono un sacco di soldi per un sacco di soldi servono un sacco di live e per un sacco di live servono un sacco di bugie nei vostri confronti, tipo tutte quelle che dice Mario, tipo tutte quelle che dice Mario ogni singola volta che finisce una live e deve dire le sue stronzate da bugiardo di sto culo grazie ragazzi, grazie per tutto questo sparafra, grazie dell'host dei 6 viewers grazie, benvenuto fra i mani, c'è Ciccioc grazie ragazzi per tutta questa cosa qua, grazie per cosa stai ringraziando Mario? Per avere una scrivania che non è neanche tua un pc regalato di dare al tuo amico e dei poverini che ti seguono non c'è niente da ringraziare, quindi smettila di fare il bugiardo non a caso, non a caso la gente parla male di te lo so che forse sto rompendo una promessa ma non a caso la gente parla male di te non voglio fare nomi però riguardati perché viviamo a casa assieme è già la roba che devo far finta con le persone che tu non ti droghi della mattina e della sera che sta diventando ridicola, fa schifo che persona, no no no, ma ragazzi cioè finalmente, finalmente sono tornato finalmente sono tornato ragazzi qua possiamo parlare di sincerità e di verità veramente ragazzi, possiamo farlo è finita, l'era Mario è finita l'era Mario Sturniolo over over game over Mario è finito, è finito di dire bugie è finito di ringraziare le persone facendo finta che te ne fotta più di un cazzo basta basta eh? abbiamo, noi maschietti abbiamo preso in giro tutte queste ragazze che fanno che si attillano e che si fanno tutte queste cose qua in live e noi facciamo la stessa identica cosa la stessa identica cosa tu eri con me quando facevi la live di ogni sub una patatina e non è essere buttati anche quelli? quindi cerchiamo di ingoiare questa ipocrisia e caghiamole il prima possibile perché fa schifo fai schifo troppo 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 grazie 2 euro e 51 centesimi Marco tieni tutti i miei soldi ho tutti i tuoi soldi grazie grazie ah ragazzi anche sta cosa qua per favore ve lo chiedo tutti i soldi che date a Mario a me a me tutti i soldi di Mario a me basta donare basta donare a Mario Asclepio 27 ha donato 2 euro ciao Marco ho bisogno della base della canzone che hai cantato di Tiziano Ferro al Cerbero la devo cantare con due miei amici al pneumatico di sto fuso orariolo ultimo giorno di scuola cerca cerca nella buona e cattiva sorte di Tiziano Ferro e la trovi finalmente possiamo parlare della verità ragazzi allora adesso sono grazie quindi adesso sono tornato possiamo parlare della verità la vera verità Mario è il più ricco della casa non so se avete notato ma Erwig grazie mille non so se avete notato ma fa live ogni giorno ogni giorno ogni giorno è tanto in più non lo fa ogni giorno ma lo fa tutto il giorno questo che significa che alle 4-5 si sveglia 4-5 ragazzi quando Jeff Bezos è sulla luna di mattina a aggiustare il satellite in modo che quel pezzo di merda guardi Netflix lui dorme si è comprato anche no è tutto comunque è il più ricco di tutti perché non solo fa live ogni giorno le fa per tutto il giorno 7 ore di live ciao ragazzi grazie e vive il cazzo grazie ma ringraziamo le persone che stanno 7 ore a guardare un tossico dipendente di merda e ragazzi qua possiamo dirlo cioè qua finalmente il periodo degli scherzi è finito possiamo veramente dire la verità su quelle che sono le persone di questa casa qui e questa è la verità su Mario questa è la verità su Mario taccagno non solo è pieno di soldi perché è pieno pieno c'è veramente nessuno nessuno c'è la gente prende in giro me perché faccio soldi con impatto G ma almeno io mi sono impegnato lui si siede tutti quelli che entrano ciao tratta tutti come amici più di quanto sono non funziona così diventa ricco questa cosa qua e ogni singola volta e qua frasco 00 ha donato 2 euro Marco ho paura di Mario la scorsa volta mi ha inseguito per strada gridava come un pazzo dicendo che era il nuovo Pablo e scobari il signore della droga aiutami ho paura di uscire l'avete notato a volte grazie Marco del futuro ha donato 2 euro Marco non mi hai più risposto su insta ma volevo proseguire il dialogo riguardo rapporto influencer fan entro i limiti comunque si caro influencer tu sei la nostra cyber puttana Mario non avrai più un euro da me è giustizia è fatta grazie grazie SG it colder grazie dell'abbonamento ciao stupido testicolino mi eri mancato ultima volta ti ho visto era macerata wow muovi quel tubuletto e fai live più spesso farò anche video più spesso ragazzi ho pronte tre serie le continuerò no ma almeno ci danno tre video vorrei tanto vorrei un sacco annunciarvi una di queste qua perché sarà una collab però meglio che freno l'eccitazione grazie ferramente grazie Mimonex ogni si qua ragazzi dovete ascoltarmi dovete credermi sulla parola hashtag marco io ti credo se mi credete no collab con Mario il cazzo già ogni minchia di volta che suona l'altra mi ricatta mi dice che devo fare l'eccolui mi dice che devo fare l'eccolui lui pensa che il nostro rapporto si deteriora se io non faccio l'eccolui è fottuto ragazzi è dentro internet è il personaggio di Digimon quando entra nel Digimon ha donato 2 euro Marco aiutami l'altro ieri Mario mi inseguiva urlandomi all'orecchio lei erato ho provato a fermarlo ma alla fine non ce l'ho fatta e l'ho preso a pugni ora anche a me è arrivata una querela mannaggia a lui io non ho fatto niente aiutami Mario smettila ha donato 2 euro che schifo Marco ha addirittura detto che il poli quiz è una merda e che poli è mafioso ho sentito poi ha detto che per guardare a The Voice dovevamo donare 50 sub vergognoso cancelletto Marco Iotti credo no grazie grazie ragazzi ragazzi senti ve ne racconto un paio perché finalmente finalmente posso aprire la mia cazzo di bocca e far uscire il veleno che ho accumulato in quest'anno grazie grazie Manu ogni singola volta e ragazzi ogni singola volta che io e Daniele abbiamo invitato che io e Daniele abbiamo invitato Mario fuori a mangiare ogni singola volta diceva che non aveva soldi ogni singola volta e il vantaggio di lavorare in una casa di influencer è che ti fai un po' troppo i cazzi degli altri a volte la limitazione un giorno parleremo anche di questo ci sono delle difficoltà palesi le notate anche voi se c'è una cosa che non funziona se c'è la puzza di merda sotto il naso si nota il live è sempre stato vabbè l'avete vissuto con noi questa vita da influencer di live streaming l'avete vissuta assieme a noi quindi capite quindi sai anche le finanze degli altri per quanto possa sembrare fare un conto nella tasca degli altri ma le sai perché fai i calcoli e non esiste che è la persona con la stanza più grande e che ironicamente paga di meno di tutte non abbia soldi nessuno ha donato due euro Mario non fa pagare duemila euro delle federe oz a questa ragazza è piovuto tutto addosso ragazzi è piovuto addosso e a me dispiace che è un po' come la storia al lupo al lupo ovvero la gente adesso non mi crederà e penserà che io stia manipolando che io stia imbrogliando no 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 è tutto vero lo detesto tantissimo non so mai come rapportarmi a lui perché questo è solamente il suo taccagnesimo ok il fare il pensare il far pensare gli altri non ha soldi in realtà naviga in una nave d'oro ragazzi naviga in una nave d'oro ragazzi e lui non paga niente mangia fagioli ogni giorno ragazzi fagioli lui su The Sims è quello che non si fa non si aumenta il cibo perché va sul frigo e fa scatola di fagioli si fa la pasta ai fagioli e la pasta al pomodoro ogni giorno ogni giorno ogni giorno e poi si lamenta perché ha quel colorito vabbè eravamo in cucina in realtà spesso eravamo in tutte le stanze io faccio una battuta per far ridere e ragazzi preparatevi perché Marco la voce del popolo è tornato questa cosa l'avrete sentita molte volte ma facciamo parlare prima la donazione no perché è un euro e non merita di avere voce però grazie dell'euro questa cosa qua l'avrete sentita molto dai vostri amici ma raramente online eccomi giudicatemi questo episodio e ditemi se una persona ha 32 anni può vivere così perché secondo il mio modesto parere e io sono quello che ha 32 anni io sono Marco Marco Marino quello che ha vissuto questa cosa no però voi ditemi la vostra uè Mario e faccio una battuta per far ridere e lui con tutta la serietà come se avesse un dottorato di sto gran cazzo mi fa ah bella perché l'hai pure layerata marione ciao minchia sto parlando della nostra amicizia bro ho idea stavo parlando non ho idea di cosa tu stessi parlando te lo dico bro te lo dico praticamente mi hanno scritto che mi starei infamando no 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 bro no 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 praticamente ho detto che quando ci siamo lasciati io e Alessia io ero una nave in un fiume e le navi nei fiumi investono no e quindi navigavo 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 mi serviva un faro bro un faro della luce che all'inizio mi abbagliasse e poi mi facesse trovare la via di strada la via di casa la via di strada bro te lo posso dire con il cuore in mano se avessi i gli artigli di Wolverine mi taglierei per togliermi il cuore dal petto e dirti quello che sto per dire il mio faro sei stato tu ma tex miglia ha vintiato x100